eccoci qua siamo dietro alla montagna cetona sempre ai confini con la val di chiana e la val d'orcia una bestiolina veramente interessante il cinghialino un bel maschietto qua dove siamo ci dici dove siamo a fonte vetriana al borgo del lupo a fonte vetriana al borgo del lupo guardate guardate come ci sta a farsi fa tutte le coccoline il nostro maschiettino cinghialino che sta con cristiani è qualcosa di meraviglioso venite a trovarci amici siamo qua fonte vetriana al borgo del lupo dietro la montagna cetona un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di